bimbe buonasera a tutte allora da oggi siamo cioè da domani siamo in zona rossa comunque si spedisce anche se il negozio è chiuso quindi tranquille le spedizioni vengono fatte siamo ovviamente in ritardo però rispondiamo a tutti e spediamo a tutti ok allora detto questo vi faccio vedere avete già visto sulle foto le stelle di natale realizzate con il buccioso dei nastri di mirta le colorazioni sono rosa antico panna e rosso il kit comprende oltre al cartamodello e al materiale cioè al tessuto buccioso per realizzare la stella comprende anche il pic per fare la parte centrale comprende anche i rami la botanica per fare questo questo per aggiungerlo al decoro quindi allora il kit viene 15 euro lo trovate già caricato sul sito per ordinare o per avere informazioni su come si effettuano gli ordini o per chiedere informazioni varie sui kit contattatemi per favore su whatsapp al 345 4273 111 perché se mi scrivete sotto ai post o sotto ai video il rischio è che purtroppo per problemi di tempo non riesco a vederli e poi alcune volte mi possono anche sfuggire quindi ritornando alle nostre stelle di natale come vedete sono realizzate con questo tessuto bello di lana particolare il tutorial è uguale al tutorial della stella scottish quindi prendete nota andate sulla pagina facebook merceria creativa o sul canale youtube merceria creativa trovate il tutorial della stella scottish che è praticamente lo stesso e praticamente si guardate quello per realizzare questa ok cosa chiara quindi il tutorial è già fatto stella scottish questo si chiama stella bucciosa la trovate nel colore panna rosa antico e rosso la dimensione della stella vela misuro è di circa 30 centimetri realizzata quindi è molto molto grande vedete questo può essere anche un fuori porta addirittura un fuori porta oppure è una decorazione per l'albero o quello che volete quindi il kit viene 15 euro contattatemi su whatsapp il sito è www.merceria-creativa.com potete ordinare dal sito vi ripeto dal lunedì fino a nuove disposizioni le spedizioni il negozio è chiuso però le spedizioni vengono fatte senza problemi e spero di rivedervi a questo punto presto penso i primi della settimana vi faccio vedere altre due cosine due cosine che ho fatto in altri colori e cioè due progetti già fatti però fatti in altri colori nuovi e niente era solo un video di comunicazione e per farvi rivedere queste stelle di natale quindi con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana ciao bimbe